Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Pallano meglio, con molta intenzione. Beh, certo, la coppia Scheller è avvantaggiata dal fatto della disparità di sessi, ma anche le tue ragazze sono un po' in difficoltà. Ma io poi alla fine non so qual è la lumba. Oh, molto bravi, molto bravi. Questa è una cosa più lumba, la loro che la mia. Io vorrei... Da quando sei partito, c'è una grossa novità. Hanno vecchi e finito ormai, ma qualcosa ancora di novità. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sacco vicino alla testa. E se sta senza parlare, per intere settimane. A quelli che hanno niente da più, del tempo ne rimane. Ma la televisione, ad ecco che muovano, porterà una trasformazione, e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale, e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno il coro. Ci sarà da mangiare, e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare, e i sordi già lo faranno. E si farà l'amore, ogni giorno con me mi va. Anche i preghi potranno sposarsi, da soltanto una certa età. E se fa grandi disturbi, qualcuno sparirà. Anche i muti potranno sposarsi, anche gli uccelli faranno. Un risotto. Un risotto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.